Edoardo ha una memoria terribile, per questo la sua prima azione al computer è controllare il calendario. Ma ricordate, miei cari spettatori, Edo è scemo, dunque spesso si dimentica di segnare i suoi appuntamenti. Per ovviare a questo problema c'è Lucy, che gli ricorda costantemente tutto il da farsi e lo schiaffeggia quando ce n'è bisogno. Complimenti Lucy, gran bel destro!